Perché i mercati non vanno sempre e solo verso l'alto. Ragazzi, i mercati non vanno sempre e solo verso l'alto. Perché i mercati non vanno sempre e solo verso l'alto. Perché se la crescita economica non è così volatile, lo è invece la crescita dell'azienda? Per due fattori. Ormai dovreste saperlo se seguite il mio canale, ma ve lo ripeto qua. Ovviamente un aspetto è la cosiddetta leva finanziaria, un altro aspetto è la cosiddetta leva operativa. La leva operativa e la leva finanziaria, ragazzi, questi due parametri amplificano, nel bene e nel male, amplificano le revenue di un'azienda. Quindi se usate bene, se usate nel momento giusto e nel modo giusto, possono veramente portare l'azienda ad un'enorme espansione. Se usate nel modo sbagliato o nel periodo sbagliato, perché purtroppo c'è ancora questione di timing, possono portare addirittura ad affrontare una bancarotta o ad affrontare un fallimento per una azienda. Ok, ragazzi, affinché un'azienda possa crescere, che sia grande o che sia piccolo, ha bisogno di accedere al, di avere accesso al credito, ha bisogno di fare debito. Ok, perciò, è per questo che è importante capire come i cambi nella disponibilità di capitale o di credito effettivamente influiscano nell'economia, perché sono ingredienti fondamentali nel cosiddetto processo produttivo. Ok, qual è la banca che mi dà il prestito con il tasso di interesse inferiore? Sono queste tre. Ok, sceglierò tra queste tre. È questo quello che in termini logici viene fatto e sono questi i parametri che vengono utilizzati. Quindi le banche e gli istituti finanziari, diciamo che competono tra di loro e che fanno? Abbassano sempre di più i tassi, abbassano sempre più gli standard, cercano di dare sempre di più prestiti possibili, ma arriva un punto, un po' un punto di non ritorno, definiamolo, in cui sono stati così, sono stati così, diciamo di manica larga, che alcune aziende hanno fatto magari investimenti sbagliati. Ora, qual è il problema? È che un'azienda si è strutturata per, ipotizzando che quelle crescite ci sarebbero state, e quindi magari hanno fatto degli investimenti, hanno chiesto dei prestiti, hanno fatto degli investimenti, nuovi macchinari, nuove aziende, hanno fatto nuove assunzioni, quelle crescite non arrivano, le imprese che già erano indebitate, come vi ho detto prima, spostano i debiti, non è che i debiti li prendono, li restituiscono, ok non c'ho più il debito, no, hanno preso un debito, ne hanno restituito un pezzo, arrivano al termine di quel debito, prendono un altro debito per continuare a restituire quel debito, continuare a fare investimenti e così via, no? Spostano, questo vuol dire rolling, spostare sempre in avanti, un po' quando vi parlo di rolling delle scadenze dei future, no? Questo vuol dire, vuol dire che se oggi mi sta scadendo il future del petrolio, io ho una posizione aperta, long, e la voglio continuare in avanti, non faccio altro che quell'operazione spostarla su il contratto successivo, rispetto a quello che mi è scaduto oggi. La stessa cosa fanno le aziende, perciò in questo, ragazzi, in questo ciclo si crea un circolo vizioso, un cane che si morde la coda, perché le banche e gli istituti finanziari solitamente sono i primi a dare l'avvio a quella che potrebbe poi diventare addirittura una recessione. Quindi in questo enorme ottimismo e crescita, non appena la crescita comincia a scricchiolare, le aziende si rendono conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, di aver investito male quei prestiti, comincia a succedere che quei debiti che hanno non riescono più a darli indietro. E quindi ci sono problemi, le banche, gli istituti finanziari quindi smettono di essere così ottimisti e soprattutto smettono di elargire prestiti così alla leggera, l'accesso al credito si riduce o addirittura si chiude ed ecco che comincia una fase che da espansione economica di cui parlavamo diventa subito, si congela e può addirittura portare ad una recessione. Quindi su che cosa non stanno trovando un accordo? Sulla produzione, perché l'unico modo per cercare di contenere il prezzo del petrolio, visto comunque la domanda che con l'economia che si è riaccesa e si è riaperta, la domanda comincia ad essere alta di petrolio, i trasporti cominciano ad intensificarsi, soprattutto il trasporto non tanto di beni e servizi, perché quello c'era già prima, ma soprattutto il trasporto dal punto di vista dell'umano. Ragazzi è sempre aumentato e poi ha avuto questa enorme ascesa, soprattutto perché ci sono stati gli emerging markets, cioè le nuove economie emergenti, ne possiamo citare due ma non sono solo due, possiamo citare sicuramente l'India e la Cina, hanno aumentato, da una parte hanno aumentato la richiesta, perché hanno cominciato ad urbanizzare tantissime zone che prima non erano urbanizzate e secondo voi per costruire, per alimentare energia, che cosa serve? Serve sicuramente il petrolio, quindi Cina e India sono due tra le responsabili, quindi da una parte c'è la grande richiesta, la richiesta che prima non c'era, quindi era una richiesta che sul mercato, era una domanda che sul mercato non esisteva e quindi l'offerta a un certo punto ha dovuto far fronte a questa domanda che si è creata quasi dal nulla, e si è amplificata e si sta continuando ad amplificare. Poi c'è stato anche un problema, un secondo problema sul fronte della domanda, quindi c'è stata una cosiddetta supply disruption, quindi un problema di produzione del petrolio in vari momenti della storia del petrolio, in paesi un po' problematici come la Nigeria, il Venezuela, l'Iraq, l'Iran, che sono paesi che hanno una grande produzione di petrolio, esportano petrolio e quindi questo ha, quando l'offerta, sapete nelle commodities i prezzi sono domanda e offerta, e quando l'offerta, sì, l'offerta si è abbassata e necessariamente il prezzo si è alzato a parità di domanda, ovviamente. Quindi, primo motivo, emerging markets, secondo motivo, problemi di produzione dovuti a guerre, guerre civili o addirittura guerre di altra natura con questi paesi, speculazione. Si ritiene ragazzi che la speculazione che viene fatta sui prezzi delle materie prime, e in primis quella del petrolio, che è sempre diventata più interessante, ha portato a molta volatilità sul prezzo del petrolio. Su che cosa impatta a livello microeconomico e macroeconomico il petrolio? Allora, ragazzi, il petrolio dal punto di vista microeconomico, quindi parliamo di microeconomia e non di macroeconomia, lo faremo tra pochissimo, sicuramente impatta su, ce lo ripetiamo spesso qua nelle dirette, impatta sui costi di trasporto, ok? Trasporto di cosa? Di beni, di cosa? Di beni e di persone. Dal punto di vista macroeconomico, invece, il petrolio impatta, ce lo diciamo spesso, sull'inflazione. Un prezzo del petrolio che aumenta tanto, quindi che si alza, come sta avvenendo adesso, necessariamente impatterà sull'inflazione. Perché? Perché il petrolio, ragazzi, uno pensa al petrolio e pensa subito al carburante, ma il petrolio viene utilizzato tantissimo nella produzione di oggetti, di beni, ok? Dai più disparati, veramente, dallo spazzolino dai denti ai pettini, viene utilizzato in tutti i prodotti chimici, c'è un utilizzo non solo industriale, c'è un utilizzo di petrolio. Perciò è normale che se aumenta questo prezzo, necessariamente si devono riversare questo aumento sui consumatori. Diciamo che dal punto di vista economico si dice che sposta l'aumentare del prezzo del petrolio, sposta verso l'alto la curva dei beni e dei servizi per i quali il petrolio è un input, viene utilizzato. Andiamo a vedere, invece, se c'è correlazione con, per esempio, l'inflazione. L'inflazione è la linea rossa, quindi è il CPI, Consumer Price Index. Vedete che, effettivamente, quando è aumentato il prezzo del petrolio è schizzata anche l'inflazione. Quando è rimasto abbastanza stabile, anche l'inflazione è rimasta stabile. Vedete che però dal 2000 ad oggi, qui abbiamo il prezzo del petrolio che è schizzato in alto, ma, qui si ferma al 2010, credo, questo grafico, 2008 anzi, ma vedete che il prezzo dell'inflazione è stato molto contenuto. E guardate un altro grafico che mette in relazione la correlazione che c'è tra crescita economica, quindi prodotto interno lordo, e andamento del prezzo del petrolio. E qui vi direi che la correlazione non è così alta, ok? Anzi, guardate, addirittura qui abbiamo momenti in cui il prezzo del petrolio saliva, e, scusate, abbiamo momenti in cui il prezzo del petrolio scendeva, e invece c'è stato un recupero dell'economia. Quindi c'è una piccola correlazione, ma sicuramente questa piccola correlazione con il prodotto interno lordo è anche molto meno accentuata. Quindi vuol dire che l'impatto del petrolio è oggi inferiore rispetto al passato sull'andamento dell'economia. Allora ragazzi, direi di cominciare la diretta risporverando un po' nel nostro archivio delle conoscenze cosa vuol dire YCC, cosa si intende, e anche cosa vuol dire Tepering. Credo sia un buon ripasso per tutti. Ripeto, perché è importante in questo momento storico osservare quello che accade in Giappone e quello che accade in Australia, perché sono le uniche due banche centrali in questo momento a controllare la curva dei rendimenti. Cos'è la curva dei rendimenti, ragazzi? Lo ripetiamo spesso perché è estremamente importante effettivamente. La curva dei rendimenti è la curva sugli interessi dell'obbligazionario, dei titoli di Stato e delle obbligazioni. E diciamo che varia questa curva al variare del tempo, perché ci sono titoli di Stato di breve termine e titoli di Stato di lungo termine. Mano a mano che il tempo alla maturità, time to maturity, quindi mano a mano che i titoli di Stato e le obbligazioni sono più lunghe nella loro durata e nella loro scadenza, e vedete che la curva si aumenta ma a un certo punto un pochino si appiattisce. E ovviamente gli rendimenti, gli yield che sono su quest'asse, sono inferiori su durate inferiori e sono superiori su durate superiori. Quindi aumentano mano a mano. Che cosa vuol dire quando una banca centrale controlla la curva dei rendimenti? Quindi fa il cosiddetto yield curve control, YCC. Quello che fa è fissa una percentuale per una durata specifica del bond, e quindi direi che si attesta verso la parte finale della curva, solitamente si attesta intorno ai 10 anni, e sapete che le banche centrali tendono a controllare meglio le scadenze inferiori. E fissata questa percentuale, che potrebbe essere, non so, la fisso al 2%, non fanno altro che comprare. Comprare che cosa? Comprare titoli di Stato. E voi potreste dirmi, torniamo un secondo qui al mio faccione un po' più grande, ma quindi Marco, fammi capire una cosa. Qual è la differenza tra quantitative easing e il controllo della curva dei rendimenti? L'ho spiegato già in passato in questo modo, ma credo sia piuttosto efficace, quindi vi ripropongo la metafora. Il quantitative easing, ragazzi, è un acquisto illimitato, con cadenza mensile o settimanale, ovviamente, da parte delle banche centrali e dei titoli di Stato. Ok? Quindi ogni settimana si acquistano 120, 100 miliardi, 5 miliardi di obbligazioni. E lo si fa settimana dopo settimana, mese dopo mese. Con il controllo della curva dei rendimenti si ottiene effettivamente lo stesso risultato, ma lo si fa in maniera più diretta. Infatti il quantitative easing ottiene in maniera indiretta un controllo della curva dei rendimenti. Invece il controllare la curva dei rendimenti è, sempre per tornare alla nostra metafora, è come avere un assegno in bianco. Cioè una banca centrale dice, farò di tutto, farò tutto quello che mi è possibile per avere un cap, cioè non per raggiungere quella percentuale di tassi di interesse. Quindi se andiamo sul sito della Reserve Bank of Australia, vi faccio vedere che il yield curve control è stato già annunciato da parecchio tempo, con un obiettivo temporale di tre anni. Per portare, scusate, con un obiettivo temporale che vuole portare i titoli di Stato a tre anni australiani intorno allo 0,25%. E dal punto di vista, quello che invece c'è stato dall'annuncio di ieri ragazzi, è che la banca centrale australiana ha detto di cominciare a fare il, cioè in realtà non l'ha detto, l'ha fatto, cioè ha diminuito di un miliardo l'acquisto, il suo quantitative easing. Il mondo obbligazionario non mente mai. Il mondo obbligazionario è il mondo più vicino all'economia. Perché? Perché le obbligazioni sono soldi nel futuro. Quindi se si comprano, si vendono obbligazioni, vuol dire che il mercato ci sta dicendo qual è la visione degli investitori dal punto di vista economico, di crescita economica e dal punto di vista inflazionistico. In questo momento dei rendimenti che scendono e un obbligazionario che sale, cosa significa? Che c'è una aspettativa di crescita economica non troppo grande e di inflazione che evidentemente è transitoria. Per il petrolio, la volatilità, il grafico che potete andare a tenere sott'occhio per la volatilità di quest'asset, è OBX. Che cosa è successo ieri al crude oil volatility index? Ve lo faccio vedere subito. Vado su Timeframe giornaliero, così lo vedete meglio e capite anche meglio di quanto sono volatili. Ragazzi, guardate la volatilità delle candele che misurano la volatilità di una materia prima come il petrolio. Vedete che la volatilità... Guardate questa volatilità e guardate la volatilità dell'S&P 500. Vi accorgete della differenza nelle candele? C'è molta più volatilità attorno sul crude oil. Eccola qui. E ieri effettivamente c'è stato un grande movimento della candela che alla fine ha chiuso in territorio positivo. Ma vedete che la volatilità si è mossa molto. Del resto, vi ho fatto vedere poco fa, il movimento del petrolio che ha chiuso la giornata andandosi a rimangiare le candele del 2 luglio e del 1 luglio. Quindi ha chiuso con un meno 2,38%. Ma guardate oggi, oggi già, sta facendo quasi il 2%. Siamo di fronte ad un momento transitorio, ad un momento di cambiamento di scenario economico, perché le aspettative sull'inflazione si sono abbassate, quindi la Federal Reserve è riuscita nella sua politica, nella sua campagna a tranquillizzare gli investitori dicendogli appunto e il mondo finanziario in generale, affermando che l'inflazione sarebbe stata transitoria e gli investitori hanno creduto a questa narrativa e quello che vediamo oggi è una conferma, ok, a quello che ha detto la Federal Reserve. Ed ecco qui l'importanza di saper leggere che cosa la cuva dei rendimenti in questo periodo vi sto parlando in maniera diciamo così randomica ma costante dell'importanza della lettura della curva dei rendimenti oggi ve la faccio anche vedere la curva attuale dei rendimenti però per ricordarvi e per fare un po' di ripasso ragazzi le scadenze a breve termine quindi i titoli di Stato a scadenza diciamo fino ai due anni quindi dai dall'un mese ai due anni questa è breve scadenza per il mondo obbligazionario vengono impattate dalle decisioni della politica monetaria della Federal Reserve quindi se la Federal Reserve aumenterà o abbasserà i tassi di interesse questo avrà un impatto sulla parte breve della curva dei rendimenti quindi sulle scadenze brevi del mondo obbligazionario differentemente la parte invece a lunga scadenza quante volte vi dico la banca centrale può controllare i breve termini ma dai dieci anni in su non riesce a controllarlo perché lì entriamo nelle dinamiche di domanda e offerta quindi lì è il mercato che decide e i prezzi e le lunghe scadenze dieci anni vent'anni trent'anni sono influenzate molto di molto di meno dalla politica monetaria della banca centrale europea ma più dalle aspettative degli investitori nei confronti dell'inflazione e nei confronti della crescita economica ma io era questo che vi volevo far vedere e cioè l'attuale curva dei rendimenti questo è il titolo di stato yield curve americana e guardate la linea blu è la linea corrente questa è quella su cui vi dovete concentrare vi ricordare che cosa ci siamo detti che fondamentalmente ci possono essere tre tipi di tre tipi di andamenti quando c'è lo steepening quando c'è il flattening quando c'è l'inverted quindi quando la curva dei rendimenti si inverte ora che cosa notate da questa curva notate come guardate la parte finale da dieci anni questa è la scadenza da dieci anni vent'anni trent'anni quindi sono le scadenze lunghe vi ricordo di nuovo che le scadenze lunghe sono influenzate dalle aspettative del mercato su l'inflazione e sul prodotto interno sulla crescita economica fondamentalmente quindi quando c'è una visione di forte crescita economica che potrebbe portare appunto a rischi di inflazione alta tende ad accentuarsi lo steepening cioè tende ad accentuarsi il modo in cui gli interessi delle obbligazioni a lungo termine crescono più velocemente degli interessi delle scadenze a breve termine questo è lo steepening ragazzi ok e la curva vedete vi stavo dicendo nella seconda parte qui si sta si sta acuendo vedete soprattutto tra i 10 e i 20 anni quindi qui abbiamo uno steepening della della curva ok e la curva è stata la curva dei rendimenti è stata spesso utilizzata come indicatore che anticipa una possibile inversione dei mercati una possibile recessione però vi faccio anche notare una cosa viviamo in un regime in cui la forza della politica monetaria delle banche centrali è molto diversa dal passato quindi stiamo attenti a continuare ad usare il mondo obbligazionario esattamente come si utilizzava negli anni 70 negli anni 80 negli anni 90 perché oggi attraverso strumenti quali il quantitative easing attraverso l'acquisto di obbligazioni unita parte della banca centrale corporate attraverso l'acquisto degli etf cose che non si facevano ragazzi anni e anni fa 20 anni fa 30 anni fa potrebbe questo indicatore darci un segnale meno preciso del passato che cosa abbiamo detto che la correlazione tra l'oro esiste con i tassi di interesse reali che sono i tassi nominali aggiustati all'inflazione e l'oro sta quindi andando verso l'alto perché stanno scendendo i rendimenti ok quindi stanno scendendo i tassi di interesse nominali l'inflazione probabilmente rimarrà costante o scenderà i tassi reali quindi sono ancora più negativi e quindi che cosa sale sale l'oro ma sale l'oro in un altro contesto che è importantissimo non so se ci avete fatto caso ragazzi l'oro sta salendo mentre sta salendo pure il dollaro e questo è insieme a questo segnale accoppiato al segnale dei rendimenti ci sta dicendo come si stanno posizionando gli investitori che cosa ci stanno mostrando gli investitori ragazzi innanzitutto ci stanno mostrando la loro proiezione e la loro visione futura del mercato e dell'ambiente economico dove ci sarà una crescita economica inferiore alle aspettative quante volte ci siamo detti ragazzi in queste dirette le aspettative che si sono generate e le proiezioni che sono state fatte sulla crescita economica sono probabilmente state fatte in maniera troppo ottimistica quello che stiamo cominciando a vedere e che secondo quello che i dati ci stanno comunicando potremo continuare a vedere è che ci sarà un rallentamento dal punto di vista dei dati che usciranno sul prodotto interno lordo e sull'inflazione perché anche questo ci stanno dicendo gli smart money ma questo lo sappiamo ce lo stanno dicendo da ormai settimane probabilmente un paio di mesi e ne abbiamo parlato qui ampiamente nella diretta di inflazione parliamo tantissimo ma è evidente ormai agli occhi di tutti che gli smart money stanno dicendo non siamo spaventati dall'inflazione poi c'è un altro aspetto importante che giustifica questo movimento degli investitori c'è la parte della delle banche centrali ieri c'è stato l'annuncio della banca centrale europea che ha detto che ha alzato il suo target mentre prima aveva detto che l'inflazione doveva rimanere sotto come target sotto al 2% adesso adesso ha detto che il suo cap il suo non mi veniva in italiano ceiling come si dice in italiano il soffitto è del 2% ma che se dovesse andare un po' sopra il 2% comunque non sarà un problema quindi ha trasmesso una probabilmente una paura dal punto di vista inflazionistica e la banca centrale americana ha cominciato a parlare di tapering cioè ha cominciato a parlare di un annuncio ragazzi ha cominciato a parlare di un annuncio del tapering questo basta sapere ai mercati però gli investitori si sono già mossi ed eccoli qua i movimenti guardate l'ultimo mese ragazzi nell'ultimo mese i financial services l'etf xlf ha fatto un meno 6,4% nonostante nel nei 12 mesi abbia fatto un più 54% vedete qua il cambiamento da inizio anno ha fatto il più 21% ma nell'ultimo mese il meno 6,4% e nell'ultimo mese ragazzi è successo quello che vediamo qua guardate ve lo faccio vedere ancora meglio questo è successo è questo quello che ha fatto ruotare i portafogli vedete queste questi tassi di interesse che sono scesi e hanno poi accelerato in quest'ultima porzione direi vi direi a partire dal 4 giugno c'è stata un'accelerazione poi un ritracciamento media 50 periodi usata come resistenza e nuovo impulso ribassista che è andato a toccare la media 200 periodi e guardate un po' chi è in verde negli ultimi 30 giorni XLK settore tecnologico growth companies consumer discretionary XLY più 4,9% healthcare XLV più 5% è fermo invece sono fermi invece i real estate sono fermi nell'ultimo mese ma da inizio anno i real estate hanno fatto il più 23% ok sono tra i primi 3 o 4 forse tra i primi miglior performer in termini di settori guardate meglio dei real estate ci sono XLC quindi communication services e i financial il terzo posto spetta proprio ai real estate quindi ragazzi capite capite come possiamo leggere il mercato per capire come si stanno posizionando il che non vuol dire che noi dobbiamo andarci dietro come dei pecoroni ognuno ha il proprio processo ognuno ha la propria diciamo così ognuno ha la propria impostazione ognuno ha le proprie strategie ognuno ha il proprio trading plan ma queste informazioni ci sono utilissime direi di andare a questo punto a vedere alcune notizie che a supporto di quello che vi sto dicendo quindi fatemi ricondividere lo schermo e volevo farvi vedere ecco partiamo dal UK eccola qui guardate UK è uscito il gross domestic product che quindi il prodotto interno lordo che sarebbe dovuto crescere dello 0,8% ok e invece è rimasto fermo ai suoi valori quindi non c'è stata crescita economica poi altro dato importante Cina in Cina abbiamo visto un consumer price index salire però all'uno attestarsi all'1.1% year over year ragazzi ma il dato importante non è questo è che è diminuita l'inflazione come rate of change già